Oggi volentieri ho portato il saluto dell'amministrazione comunale alla nuova edizione della settimana che è un momento di grande visibilità verso tutto il patrimonio nazionale però questo momento di grande visibilità non cancella il grande lavoro quotidiano che viene fatto qua da Modena in tutta l'Emilia Romagna grazie ai soci pubblici. Gli argomenti non sono per addetti ai lavori ma sono sempre di più per l'interesse comune perché parlare di sostenibilità, resilienza, riqualificazione dell'esistente è sempre di più una linea tracciata al 2030 e al 2050 dalle direttive europee e dalla volontà degli enti locali perché noi crediamo moltissimo in un progetto di riforma e di mondo più sostenibile che parte dalle città dal basso e va verso gli stati membri e verso una dimensione più continentale. Già gli argomenti di questa prima giornata fanno capire come la settimana si sia evoluta in questi 19 anni. La mobilità è entrata in una discussione più a 360 gradi, il tema energetico è entrato in una diversa visione, non è più solo una questione di numeri ma una questione più generale di come deve funzionare la vita quotidiana con minore impatto verso l'ambiente. E poi per noi enti locali questo momento di approfondimento della settimana è utile perché siamo orientati in Emilia Romagna a un cambiamento epocale che è quello dettato dalla nuova legge sull'urbanistica. Dal 2018 è presente e vigente una nuova legge che darà a tutti gli enti locali tempo fino al 2024 per cambiare il proprio strumento urbanistico. Ebbene nel passaggio da PSC a Pug noi dovremo inserire quelle qualità, quegli standard qualitativi ambientali ed energetici che ovviamente gli strumenti urbanistici degli anni 80 non potevano avere. Quindi non sono argomenti accademici lontani ma ciò che viene trattato in questa settimana è qualcosa che davvero va a incidere sulla quotidianità delle nostre vite di amministratori. Un ultimo ringraziamento grazie alle fondazioni casse di risparmio, grazie alla Camera di Commercio perché senza il loro sostegno istituzionale non sarebbe possibile fare iniziative così importanti e così di livello nazionale e internazionale.